Augusta e i carabinieri arrestano un 55enne per evasione. I carabinieri della liquida operativa della compagnia di Augusta hanno arrestato un 55enne pregiudicato del luogo per evasione. Il soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, è stato sorpreso e bloccato dai militari mentre girovagava a piedi nei pressi della contrata scardina. Dopo le formalità, l'arrestato è stato ricollocato ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Grazie.